La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani. Partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, si apre con la votazione per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Oggi alle 15 iniziano le votazioni, ma vediamo il titolo, ancora non c'è il nome, infatti vediamo Braccio di Ferro su Mattarella, questo il nome su cui punta il Premier Renzi con le pressing di Renzi su Berlusconi, oggi nuovo vertice in serata, il Premier vede amato. Giro frenetico di consultazioni, Padovan in seconda battuta, il Cavaliere il nome non c'è ancora, ma conviene l'accordo. Andiamo avanti con gli articoli correlati, intanto annunciamo che all'interno del quotidiano il mattino di oggi troverete uno speciale proprio dedicato all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e per l'analisi di fondo il Nazareno ha la prova più difficile. Ancora il dossier Confindustria vede la svolta nel 2015, la crescita del 2,1%. Cambiamo argomento, ci spostiamo di spalla, le interviste del mattino, telemarketing cambia la legge, il garante privacy, troppi abusi. Per il commento, travolti dalle carte ma indifesi. A centropagina le notizie di cronaca, cocaina, la maxirete con la dama bianca, una nave per il trasporto dal Sud America a Salerno, 28 gli arresti, c'è anche l'ex stagista che viaggiò con il Cavaliere, latitante il giovane boss di Torre Annunziata che rifornisce tutti i clan. Per il personaggio politici e narcos, la doppia vita della bella Federica. E andiamo ora a ritaglio basso, ISIS, scambio di ostaggi come in guerra, salvo il giornalista giapponese, ora serve un'azione militare mirata. E poi la lezione agli italiani, arriva dall'America, mozzarella, la lezione degli americani, viceambasciatore USA, visita il consorzio a Caserta, fare di più per venderla. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, ora andiamo proprio a sfogliare lo speciale dedicato alle elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Vediamo alcuni dei nomi del dopo Napolitano, il titolo, l'elezione di parte la grande corsa al Quirinale, il Presidente alla quarta votazione. L'obiettivo è evitare il flop di due anni fa, il verdetto finale previsto sabato. Ricordiamo poi due anni fa fu richiesta di ripresentarsi come Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, non era uscito il nome. Vediamo le rinunce, hanno detto no a candidarsi, personalità del calibro di Draghi e Muti. Vediamo quali sono i papabili per occupare il Quirinale. Partiamo con Giuliano Amato, il Dottor Sottile, un acume politico che l'estero apprezza. Ancora Romano Prodi, il professore leader del centro-sinistra, due volte premier. Continuiamo sulla pagina successiva di questo speciale con l'unica donna in campo, Anna Finocchiaro, siciliana, ex ministro, il candidato donna con maggiori chance. E ancora Paolo Gentiloni, il conte rosso-verde lanciato da Rutelli agli esteri a sorpresa. E poi il nome presentato dal premier Renzi, Sergio Mattarella, il giudice costituzionale, il suo nome legato all'ex sistema elettorale. Vediamo gli ultimi due, Walter Veltroni, dalla nascita dell'Ulivo alla guida del PD, libri e cinema, passioni doc. E infine Graziano Del Rio, il sottosegretario con deleghe toste dai fondi dell'Unione Europea al sud. Questi i nomi al momento usciti fuori per il prossimo Presidente della Repubblica. Lasciamo lo speciale, lasciamo le pagine del mattino nazionale. Ci spostiamo ora sul battito di Salerno, si torna sui casi di crolli all'interno delle scuole. Quindi poca sicurezza per le strutture scolastiche. Vediamo infatti l'inchiesta del mattino, rischio crolli, vergogna a scuola. Questo è il titolo dedicato all'argomento, un piano sottosequestro e dieci classi senza aule. Ecco lo scempio dell'Istituto Nautico di Torrione, disagi strutturali in più di 200 istituti in piazza, la rabbia degli studenti. Andiamo avanti, uno squarcio nel solaio vicino all'ascensore, ecco l'immagine. E poi una crepa nel muro, l'intonaco perde pezzi. Ancora il caso giù calcinacci, terrore anche a Sant'Arsenio. Vediamo nel giorno della grande manifestazione studentesca a Sant'Arsenio è caduta parte del solaio di un'aula dell'Istituto Alberghiero. Calcinacci e qualche pietra sono caduti su un banco in prima file nei pressi della lavagna. L'aula per fortuna era vuota. Ci spostiamo ora di fondo. La politica va al Zerra all'Asi, via Cassandra arriva all'Andolfi e per la sanità l'Asl nel caos protestano anche gli operai. A centro pagina, paura affratte, esplode l'auto di Schembari, boato nella notte, distrutta la vettura, intestata al padre di Gerry, mai subito minacce. Una bomba per intimorire l'ex emergente della mala, condannato per droga. E poi sì, anche sul mattino di Salerno si parla degli arresti per droga a Torre Annunziata e i traffici salernitani della dama bianca. Continuiamo il personaggio e l'ultimo boss invoca la libertà. Vediamo come chiude la prima pagina del mattino di Salerno, battaglia in fabbrica tutti contro tutti. Ad Alcatel denuncia BTP Tecno, battaglia legale nello smaltimento di battipaglia. Per il calcio sfida salernitana, aggancio alla vetta in cinque mosse. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo proprio sulle pagine di primo piano, si parla delle scuole, delle strutture, l'assenza di sicurezza, i crolli e le strutture danneggiate. Vediamo ieri la manifestazione, l'abbiamo visto anche dalla prima pagina, nel Salernitano, manifestazione, requiem in piazza per la scuola, in classe non si va per morire. Questo è il grido lanciato dagli alunni in corteo, 600 studenti con una finta bara, istituti a rischio, stop ai tagli. La protesta sfilano anche i docenti universitari, dateci i trasporti dignitosi. E intanto, l'abbiamo visto anche questa notizia, nella Sant'Arsenio, c'è del solaio, piovono calcinacci, paura Sant'Arsenio, aula vuota, dramma sfiorato per gli alunni dell'alberghiero, oggi operai al lavoro. L'allarme, il consigliere provinciale Malpè, della sicurezza, nostra priorità, ma fondi inadeguati. Lasciamo anche questa pagina del mattino di Salerno, andiamo sulle pagine dedicate alle notizie del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura si va a Vallo della Lucania, stop allo sciopero degli operai del Coris A4, vediamo operai di Fiuti, stop ai licenziamenti, la promessa la revoca entro dieci giorni e gli addetti liberano il consorzio di Bacino, ma Bruno avverte i costi del clientelismo ricadranno sui comuni. Vediamo. Entro dieci giorni saranno revocati i licenziamenti, l'impegno del neocommissario Americo Montero è arrivato ieri mattina ai lavoratori del Coris A4, riuniti in assemblea permanente in segno di protesta. E' stato il collaboratore Antonio Bruno, fresco di nomina, ad incontrare gli operai e ribadire l'impegno totale e incondizionato del commissario per riportare ordine all'interno del consorzio. Andiamo ad Agropoli, a centro pagina, a clinica Malzoni, stipendi salvi col blitz del sindacalista, dopo lo stato di agitazione proclamato dai 150 lavoratori della storica casa di cura di Giacomo, segretario della CGL, ho dovuto sostituirmi ai vertici e chiamare l'ASL per il mandato. Ancora il gruppo alla clinica di Salerno, mensilità pagate regolarmente, ad Avellino invece è sciopero. Di taglio basso, Capaccio, museo del Grand Tour, addio al convento, respinto in appello e ricorso della fondazione Vico, mentre a Sala Consilina, dosi di eroina nel calzino, una coppietta finisce in cella. Le notizie di Spalla, Rofrano, case popolari a rischio 2 milioni, sindaco lento. Queste le pagine, queste alcune delle notizie che troverete sul quotidiano il mattino di questa mattina, appunto andiamo ora sul quotidiano invece la città, vediamo il titolo di apertura, si parla della protesta presso la sede di Vianizza dell'ASL di Salerno che continua, vediamo il titolo, ASL, la rivolta paralizza la città, gli operai delle ditte di pulizia minacciano di gettarsi nel vuoto contro i tagli allo stipendio, scontro aperto con i dipendenti, la difesa di squillante. E ancora proteste, anche qui, anche sulla città si parla della manifestazione contro i tagli alle scuole e le strutture scolastiche poco sicure, vediamo infatti il titolo, nella fotonotizia, la scuola crolla, ci ripariamo con l'ombrello. Questa è la protesta degli studenti, erano più di 600 gli studenti degli istituti salernitani che ieri mattina hanno sfilato in corteo lungo corso Vittorio Emanuele per chiedere scuole più sicure, ombrelli aperti, ironicamente, per ripararsi dal pericolo di crolli che, come testimoniato dal caso dell'Istituto Nautico, mettono a rischio l'incolumità dei ragazzi. Per la cronaca, operazione Dama Bianca, droga, un ebolitano, un cavese tra le 28 persone arrestate e a Eboli, sequestrata un'ambulanza, non aveva l'assicurazione. Andiamo di fondo le notizie provenienti dalla politica nazionale, si vota per il Presidente della Repubblica, abbraccio di ferro, Renzi punta su Mattarella e vediamo le esigenze concrete dell'ex cavaliere, questo nell'editoriale. Andiamo avanti, sempre per la politica nazionale, grandi manovre in provincia, l'Udc traghetta gli oppositori verso Canfora. Andiamo di spalla, i quadri di Scarano, il tesoro del Monsignore trovato a Roma, era in vendita. Per la cronaca ancora delitto di Pollica, caso Vassallo, via libera all'estradizione del brasiliano. Vediamo, firmato il provvedimento per l'estradizione di Bruno Umberto Damiani, entro un mese il brasiliano indagato nell'ambito dell'inchiesta dell'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, dovrebbe far rientro in Italia dal carcere di Bogotà in Columbia, dove è attualmente detenuto per questioni di droga. Vediamo come chiude questa prima pagina del quotidiano La Città, Museo del Cognome alla scoperta degli antenati, il fondatore della struttura, un ex cuoco di Padula. Ogni storia comincia quasi per caso. L'incipit qualche volta è dato da un particolare, quasi irrilevante, da un oggetto agli occhi di molti trascurabili. La storia di Michele Cartuscello ha inizio grazie a una grande valigia posta in una delle ultime stanze del museo. E continuiamo la radio di Ateneo Unisound nel palinsesto spazio a teatro e musica. E cinema, scusate. Questa è la prima pagina della città. Andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie del Sele, del Vallo di Diano e del Cilento. Si parla in apertura della questione relativa al Tribunale, o meglio all'accorpamento dei Tribunali di Sala Consilina e Lago Negro. Ieri la conferenza stampa dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consilina, presieduta da Angelo Paladino e del Comitato Pro Tribunale, presieduto da Franco Lamanna. Ancora disagi per la struttura di Lago Negro. Non c'è lo spazio sufficiente per accogliere Sala Consilina. Questa è la denuncia di ieri in conferenza stampa. Infatti vediamo il titolo. Sala in Golfa, Lago Negro, processi al palo. Si allungano i tempi per definire i procedimenti nel civile e nel penale e spunta l'ipotesi di un eventuale accorpamento a Salerno. Ricordiamo anche il Tribunale di Salerno ha avuto difficoltà ad accogliere la sede distaccata di Eboli. Vediamo una parte dell'articolo. Nell'ultimo anno, nel distretto della Corte d'Appello di Potenza, nonostante le notevoli difficoltà che si sono dovute affrontare in sede di riorganizzazione della geografia giudiziaria, con la soprazione del Tribunale di Melfi e la fusione del Tribunale di Sala Consilina con quello di Lago Negro, la situazione è rimasta invariata. Così il Presidente Vicario della Corte d'Appello, Vincenzo Autera, ha illustrato la situazione dell'amministrazione della giustizia in Basilicata dopo la chiusura del Tribunale di Sala accorpato a quello di Lago Negro. I dati sulla durata del processo sono rimasti sostanzialmente invariati. Vediamo ancora i dati sui Tribunali. Invece confermano, ha spiegato Autera, una persistenza di obiettiva difficoltà a fronteggiare il flusso sopraggiunto, per cui il tempo di definizione dei processi non registra rilevanti miglioramenti, con circa mille giorni per i dibattimenti penali e 351 giorni per l'appello. Andiamo avanti ancora. Gli avvocati dell'ex foro di Sala rischiano anche di subire un'ulteriore beffa. Infatti è all'orizzonte l'ipotesi di una soppressione della Corte d'Appello di Lucana che sposterebbe in Calabria le cause d'appello, mentre il territorio che faceva capo all'ex Tribunale di Sala, finito sotto la giurisdizione di Lago Negro, finirebbe con il ritornare di nuovo a Salerno. Il ritorno di Sala Cosina a Salerno permetterebbe di salvare la Corte d'Appello della città, capoluogo della chiusura. Insomma, una questione geografica non poco semplice. Andiamo avanti. Andiamo a Vallo della Lucana, intesa con Montera, ha sciolto all'Assemblea del Coris a tavolo tecnico per il riassorbimento degli operai licenziati. Il Tar decide sul ricorso di Vitale. Vediamo le notizie di taglio alto. San Gregorio Magno tagliano una quercia secolare per rubare i quintali di legna. Mentre, per le notizie di taglio basso, la decisione del Cipe, metanizzazione del Cilento, ha approvato il completamento. E a Sala Consilina, la cronaca, eroina nascosta nel calzino, una coppia, finisce in manette. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine di Le Cronache, che apre con un attacco ironico nei confronti del presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, occupandosi delle nuove nomine del presidente nei vari organi di competenza della provincia. Infatti, ecco il titolo, avanti c'è posto. Canfora, sistema Landolfi all'Asi, dove entra anche Parisi, sindaco di Buccino, ma è scontro all'interno del PD. Intanto i lavoratori del CNS occupano l'Asle, e mettono sotto accusa squillante per i nuovi tagli. Sempre, scusate, in merito alla nomina di Landolfi all'Asi, arriva il commento di Sergio Annunziata, che attacca, ma non aveva detto io mai, la prossima vittima intanto è Giovanni Siano, commissario liquidatore del consorzio Salerno 3. Lasciamo questo argomento, lo troveremo anche nelle pagine successive. Adesso andiamo avanti, distrutto dal gioco, ora aiuto gli altri a smettere, Giuseppe Lamberti si racconta, grazie a mia moglie e a Logos. Intanto a Scafati, sulle nomine, a Liberti sotto attacco, contestate le deleghe e consiglieri e la nomina del vice segretario. Andiamo a centropagina, carcere ad alta tensione, si rischia una rivolta, il SAP denuncia, carenze di strutture d'organico, e l'ASL non tutela gli agenti. Intanto a Salerno un open day per rendere materno rima d'eterno, iniziativa alla scuola da vino. Per la cronaca, droga nel Cilento, cinque condanne, un anno e otto mesi, a Luigi e Rocco Stabile, sedici mesi, a Cristiano Vecchio, tutti di Capaccio. Per quanto riguarda le fotonotizie, si parla di sport e di tribunale, intanto per quanto riguarda il tribunale, ricordiamo ieri la conferenza stampa dell'Unione Giuristica Cattolici Italiana e del Comitato Pro Tribunale a Sala Consilina, e vediamo a Lago Negro, cancelliere sfrattato per mancanza di spazi. Questa è un'altra delle denunce emerse ieri in conferenza stampa. Per quanto riguarda invece la Salernitana, monrad al Catanzaro, con maritato anche l'idea, figlio Meni. Questa è la prima pagina, andiamo ora, come annunciato, sulle pagine dedicate proprio alla provincia di Salerno, all'ente provincia di Salerno, alle nuove nomine da parte del Presidente. Vediamo il titolo, l'Andolfio all'Asia ed è scontro nel PD. Canfora a zero il vecchio CDA, entra il segretario provinciale del Partito Democratico, l'area avvaliante, però si arrabbia. E Sergio ha annunziata, ma non aveva detto io mai, non era quello che si era dimesso da tutto. Un posto anche all'Udc che punta su Nico Miranda, ne fa parte pure l'ex segretario di Nocella Superiore, Guariglia. Vediamo il post su Facebook, il 4 gennaio, l'Andolfi scriveva, tre minuti dopo essere stato eletto segretario del PD nel 2010, mi sono dimesso da capogruppo consigliare dei progressisti, componente del direttivo Oasi, e non più candidato. E ora, questa la denuncia, infatti vediamo una parte dell'articolo a ricordare le dichiarazioni di Nicola Landolfi, Sergio Annunziata, sfidante alla guida della segreteria provinciale all'ultimo congresso salernitano, finalmente, dice Annunziata, dopo molti tentativi e varie occasioni, questa volta non è sfumata la poltrona per il segretario provinciale, finalmente un posto in un consiglio, comprobabile futuro da presidente, sua aspirazione da sempre e da tutti risaputa. Tutto questo in contraddizione con quanto dichiarato appena pochi giorni fa quando sfidava chiunque a poter smentire il suo comportamento e le sue dimissioni da ogni carica all'atto dell'elezione a segretario provinciale nei giorni dello strappo per la guida del consorzio farmaceutico. Lasciamo quest'argomento, andiamo intanto di spalla abbiamo visto anche dalla prima pagina la prossima sostituzione ai vertici di un ente provinciale vediamo Siano in bilico segnalate grave irregolarità nella gestione avviata la procedura di revoca per il commissario liquidatore del consorzio rifiuti Bacino Salerno 3 il presidente della provincia di Salerno avviato per Giovanni Siano la procedura per la revoca all'incarico di commissario liquidatore del consorzio rifiuti Bacino Salerno 3 alla base del provvedimento ci sarebbero segnalazioni relative a grave irregolarità nella gestione ramo rifiuti del consorzio di Bacino come aveva denunciato Vittorio Esposito ma lasciamo questa pagina della politica provinciale e andiamo ora sulla pagina dedicata alle notizie del Vallo di Diano l'abbiamo visto anche questo in apertura sulla prima pagina si parla della questione tribunale di Lago Negro ancora insufficienti gli spazi la denuncia ieri in conferenza stampa vediamo il titolo si sta stretti a Lago Negro Paladino cancelliere sfrattato per carenza di spazi le prossime iniziative che era il tribunale l'ennesima presa di posizione del comitato per la sede locale l'ex tribunale di Sala Consiglia e la lotta per il suo ripristino sono stati oggetto di una nuova conferenza stampa in particolare sotto i riflettori del presidente del comitato Franco Lamane e del presidente dell'Unione giuristica attuale italiana in sezione di Sala Consiglia Angelo Paladino sono stati tre temi le persistenti carezze strutturali dell'accorpante tribunale di Lago Negro la parallela vicenda del distretto sanitario che dovrebbe essere ospitato nella sede dell'ex tribunale e la mancanza di iniziative per il ripristino da parte degli amministratori locali andiamo avanti Teggiano a cura della diocesi domani l'assemblea di verifica di metà percorso a Capaccio invece ci spostiamo a centropagina l'ambulanza CRI trasferita a Montesano preoccupata l'assessore Rosa Campiglia e a San Rufo Frana sulla statale 166 Pica scrive all'ANAS e all'assessore regionale Cosenza il consigliere PD a Palazzo Santa Lucia di taglio basso sala consiglina l'ex sindaco Ferrari il nuovo presidente non sia come napolitano ricordiamo oggi prendono il via le consultazioni cioè ieri hanno preso il via le consultazioni oggi alle 15 inizieranno le votazioni di spalla cambiamo argomento Rufrano a rischio le case popolari insorge la minoranza queste le pagine le notizie di le cronache andiamo ora invece su Metropolis partiamo dalla prima pagina vediamo i diversi argomenti in trattazione partiamo questa è la prima pagina di Napoli Sud invece sulla prima pagina dell'edizione Salerno e Provincia l'inferno del carcere di Forni denuncia del sindacato c'è le stracolme poco personale nella casa circondariale di Salerno gli agenti di polizia penitenziale fanno appello alle istituzioni e annunciano la protesta a Roma intanto a Salerno il caso Crescent il ministro Franceschini chiede i danni sul territorio tra cavali tireni e deboli blitz dama bianca due arresti nel Salernitano sempre di taglio alto nell'agro agroinvest e patto territoriale è pronto il valzer dei CDA mentre a Scafati De Nicola si difende faccio risparmiare andiamo a centro pagina la rivolta la protesta scusate all'asla di Salerno asla alta attenzione lavoratori disperati mentre a Nocera Inferiore Citarella va dal giudice si aggrappa all'indulto condanna nel processo Due Torri in stanza dell'ex patron della Nocerina e il caso dell'omicidio di Angelo Vassallo Damiani in Italia entro la fine di febbraio l'abbiamo visto anche sulle pagine degli altri quotidiani è pronta l'estradizione e a Pagani la politica continua a litigare la partecipata non decolla per quanto riguarda invece le notizie sportive la Salernitana saluta Munrad fu l'eroe della Serie D e per il calcio Serie D Cavese il danno e la beffa confermata la sconfitta ancora per il calcio dilettanti Calvario Nocerina Ussia avete distrutto tutto questi alcuni degli argomenti del quotidiano il Metropolis ora andiamo sulla pagina dedicata alle notizie provenienti dalla parte sud della provincia salernitana in apertura si parla del caso dell'omicidio di Angelo Vassallo Damiani torna in Italia così titola su questa pagina Metropolis delitto Vassallo l'avvocato dell'indagato l'estradizione avverrà entro 40 giorni quindi entro il mese di febbraio il giovane salernitano detenuto a Bogotà è accusato dell'omicidio di Angelo Vassallo a Pollica nel 2010 il delitto di Angelo Vassallo potrebbe arrivare molto presto ad una svolta le lunghe indagini condotte negli ultimi anni dopo l'omicidio del sindaco pescatore hanno indirizzato tutte le piste verso Bruno Umberto Damiani il brasiliano potrebbe tornare molto presto in Italia entro massimo 40 giorni andiamo avanti a centropagina Capaccio operazione Scalo 5 condanne intanto spaccio di droghe responsabili dell'organizzazione patteggiano le pene a Battipaglia sfasciano un bar due denunciati e di taglio basso ancora a Battipaglia nuovo Pucchi dubbi dei Democrat bisogna coinvolgere i cittadini mentre a Ponte Cagnano trasporti scontro PD maggioranza brusa e fiore amministrazione colpevole vivone solo strumentalizzazioni per le notizie di spalla eboli controlli in città 4 arresti ancora nel Cilento metanizzazione c'è l'ok del Cipe e sulle pagine di Metropolis termina la nostra segna stampa vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con l'informazione di Uno News grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata